La nostra scuola ha un indirizzo sportivo, la scuola dello sport, sono cinque in tutta Italia, stiamo facendo in modo tale di avere un coordinamento per avere un riconoscimento anche dal punto di vista istituzionale. È una scuola che tra le altre cose, oltre alla promozione dello sport, si interessa anche di promozione dell'attenzione alla salute, anche di solidarietà e temi legati alla pace. La scuola dello sport è una materia che non va sottovalutata. Di scuole come la nostra ce ne sono tre in tutta Italia, infatti molti ragazzi invece di muoversi e giocare passano il tempo guardando la tv o in casa. Noi che siamo del terzo anno possiamo permetterci di consigliare ai ragazzi che si iscriveranno in questo istituto, visto che per noi è stata un'esperienza che ci ha aiutato a crescere e diventare più sportivi sia mentalmente che fisicamente. Insieme, oltre a fare sport, collaboriamo per raccogliere fondi di istituto con decori e mercatini e mercatini. Con questo, oltre allo sport, abbiamo avuto il privilegio di conoscere altre ragazze attraverso gemellaggi. Infatti noi abbiamo fatto un gemellaggio con la scuola di Tavagnacco. Insomma, la nostra scuola è la migliore. Stiamo facendo un grande investimento sui giovani. Potrebbe sembrare paradossale che ci stiamo rivolgendo ai ragazzi di 13-14 anni, ma in realtà è l'occasione per parlare di valori, di cittadinanza attiva e di solidarietà e avviare i ragazzi a stili di vita corretti che potrebbero produrre domani veramente la possibilità che siano tutti donatori. Grazie. Grazie.